Fantastico. Interessante. E' importante. La scuola di Lady Firenze da una quindicina d'anni abbiamo creato un dipartimento tramite il quale si fa il restauro di beni culturali. Siamo a San Piescheraggio. San Piescheraggio fa parte del complesso degli Uffizi, quindi un posto importantissimo dove i ragazzi hanno potuto avere un'esperienza completa. Sono stati bravi, devo dire, molto appassionati al lavoro e credo che abbiano anche avuto l'occasione veramente di fare un'esperienza interessante sia per il posto sia per la varietà di situazioni che si sono venute a creare via via durante le lavorazioni. Sicuramente è stata un'esperienza interessante che mi è servita sotto molti punti di vista e che mi ha formato in più rispetto a quello che mi forma l'università, quindi questo è sicuramente positivo. A me dà grande soddisfazione vedere anche quando sei lì che lavori vedi come muta, come cambia l'opera, come migliora. È un'esperienza fantastica, anche perché comunque mi ha dato la possibilità di poter lavorare all'interno di un luogo come gli Uffizi, conosciuto in tutto il mondo, quindi un luogo di prestigio. Che mi sembrava molto interessante considerando la collocazione e anche la pratica rispetto alla teoria. E farmi un'idea di quello che è il mondo del lavoro al di fuori dell'università e in un campo a cui comunque mi dovrò approcciare per la mia professione. Mi ha fatto capire cosa è il restauro. La grande possibilità e opportunità di tenere in vita opere che altrimenti sarebbero destinate a morire, diciamo. Osservare direttamente una restauratrice, lavorare, imparare da lei i trucchi e le abilità del mestiere. No, mi sono trovata molto bene. Ho trovato delle persone con cui mi sono trovata estremamente bene, che anche per le amicizie che ho creato in questi tre mesi. Va veramente a capire il significato del restauro e di cosa abbiamo di fronte, cosa avremo poi di fronte in un futuro. Sono Svetlana. Io sono Chiara Manfriani. Mi chiamo Lucia. Sono Stefania. Sono Andrea. Mi chiamo Laura Filetti. Io mi chiamo Valentina Santoro. Io sono Laura Lucioli, sono stata l'insegnante di questi ragazzi durante questo periodo e durante questa esperienza. Quando sei davanti a un monumento ti rendi conto di quello che veramente stai toccando. Io sono Stefania. Grazie a tutti.